Ma, saluto la Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Buonasera Meloni. Buonasera Paolo, buonasera a tutti. Su questa vicenda di Saman la comunità islamica si difende dicendo che non è un problema legato alla cultura musulmana, ma che sono degenerazioni della stessa. Lei cosa ne pensa? Penso che non sia così, nel senso che non si possa negare che c'è un legame, non fosse altro perché oggi nel mondo ci sono fiorfiore di paesi islamici nei quali vige un'interpretazione diciamo così fondamentalista del Corano, penso all'Arabia Saudita, penso al Qatar, penso a molti altri, che prevede la pena di morte per apostasia, la pena di morte per adulterio, che prevede la sottomissione della donna, che prevede la pena di morte per omosessualità e ovviamente non si può pensare che questo problema non esista in una parte della cultura islamica. Guardi, bisogna ricordare che una delle grandi differenze che esistono tra la religione cristiana, cattolica e la religione islamica è che noi abbiamo sì testi sacri come il Corano, che sono sicuramente molto antichi e molto complessi, ma dalle nostre parti c'è una interpretazione ufficiale di quei testi. Nell'Islam non è così, nell'Islam non esiste un'interpretazione ufficiale dei testi sacri, nell'Islam non esiste una gerarchia ufficiale ecclesiale, cioè nel senso religiosa, ok? Quindi questo comporta che chiunque può interpretare a suo piacimento la legge coranica. E non accade solo in altre nazioni, accade purtroppo anche a casa nostra. Il caso di Saman non è il primo caso, ammesso che sia confermato diciamo quello che sospettano gli inquirenti. Vediamo. Io sono stata francamente scioccata dalla vicenda dell'SMS della madre di Saman. Eh sì. Che scrive stiamo morendo, torna a casa, no? Un agguato. Perché se poi fosse confermata la tesi degli inquirenti, vorrebbe dire che la mamma di questa ragazza l'ha tirata in una trappola. Una trappola. Ok? Sapendo esattamente quello che sarebbe accaduto. Io sono madre. Per me è inconcepibile una cosa del genere. Ok? E penso che noi non possiamo fare finta che questo problema non esista, perché siamo una civiltà nella quale le donne hanno combattuto decenni per avere la parità. E voglio chiedere alle mie colleghe della sinistra, voglio chiedere alle femministe, che senso abbia avuto fare decenni di lotte per la parità e poi far finta che un problema che è stato estirpato nella nostra civiltà non stia rientrando attraverso l'immigrazione o comunque gli islamici che vengono qui in Italia. E guardi, persone che sono considerate più presentabili di me, scusi Paolo, dico solo questa cosa, persone che sono considerate più presentabili di me, penso al presidente francese Emmanuel Macron, quindi non un pericoloso sovranista, eccetera, si stanno rendendo conto di come ci sia un problema, diciamo, una legge diversa da quella dello Stato nel quale si sceglie di vivere, che viene applicata. Qui, quando è accaduto il fatto di Saman, io sono rimasta scioccata da Lukoi, che fa una fatua contro i matrimoni misti. Ora, la fatua è un'interpretazione giuridica della legge coranica. Quello che io voglio chiedere a Lukoi è se si ritenga che i musulmani che vivono in Italia siano sottoposti a una legge diversa da quella dello Stato italiano. Perché comunico ufficialmente che questo non può accadere. Qui i matrimoni combinati non sono previsti semplicemente perché è contrario all'ordinamento italiano. Quindi da noi non si applicano le fatue e non si applica la legge coranica. E il fatto che questo non lo dica nessuno per me è estremamente preoccupante. Senta, noi... Noi non possiamo far finta che sia un caso unico. Sì, sì. Prego, prego. Noi di Rittorio Vesce abbiamo voluto fare un passo un po' in avanti in questa storia. Siamo andati in Pakistan, c'è andato Angelo Machiavello, per vedere un po' il ruolo della donna, la diffusione dei matrimoni combinati e abbiamo visto quello che ora le faccio vedere. Prego. Questa è la casa dove ha vissuto Saman per i cinque anni che è stata in Italia e da questa porta al primo maggio sono usciti i genitori per andare in Pakistan, nel paese dove avevano vissuto fino a 15 anni fa prima di arrivare in Italia. Saranwala, siamo andati a cercarli. Ecco Saranwala, 4.000 abitanti, paese agricolo. in giro solo uomini. Le immagini che abbiamo trovato su Facebook dei parenti della famiglia Bass non ci fanno ben sperare. Vedete, sono tutti con fucili, armati, hanno dei cani. La casa di Shabbar Abbas è qui, in fondo a questa stradina molto stretta e questo cancello verde ci apre una donna, evidentemente una parente. sono campagne dove le donne vengono ridotte a fantasmi dove la famiglia che impone il matrimonio che decide chi si deve sposare. Del padre non sappiamo nulla. La nostra legge è chiara. Non ci si mette mai contro la famiglia. Abbiamo un sistema tribale. Devi sposare uno del tuo gruppo. Se trovi chi ti piace, bene. Altrimenti il matrimonio viene organizzato. E quest'uomo, guarda caso, ha il cognome che fa Bass proprio come la famiglia di Saman. Grazie molte a tutti i nostri inviati e a chi fa i servizi perché abbiamo una bellissima squadra e la ringrazio volentieri sempre. ha visto Meloni questa realtà e non ce la siamo. Non è un fotomontaggio. Ma guardi, ancora prima ho visto l'imbarazzo delle persone che lei ha intervistato nel servizio d'apertura. perché possiamo anche far finta di essere tutti scemi e di non capire che ci sia un imbarazzo di fronte alle domande semplici, no? Ma quell'imbarazzo c'è. E quindi forse il problema non è del caso isolato. Il problema è di una cultura nella quale molto spesso la legge diciamo così dell'amore per i propri figli, no? E noi non possiamo fingere che questo non esista perché dalle nostre parti noi rivendichiamo a ogni piesso spinto, Paolo la laicità dello Stato. E anche qui voglio chiedere alla sinistra e alle femministe a tutta questa gente che passa la giornata a darci lezioni se la laicità dello Stato valga solamente contro la religione cattolica o se vaga anche in questo caso. Perché noi viviamo in una Europa nella quale si rimuovono i crocifissi dalle aule delle nostre scuole e contemporaneamente si consente che ci siano interi quartieri ormai consegnati alla legge islamica. E allora qualcuno mi deve fare capire qualcosa perché a me pare che diciamo il mainstream, no? Cioè il politicamente corretto ormai sia incappato in una serie infinita di cortocircuiti per cui si difendono le donne si difendono i diritti degli omosessuali però poi quando si parla degli immigrati con la cultura che a volte si portano dietro i diritti delle donne e degli omosessuali non esistono più. Fatemi capire come funziona che immigrato batte donna sottomessa che immigrato batte omosessuale discriminato cioè fateci capire come funziona perché a casa nostra non funziona così a casa nostra la discriminazione è discriminazione la sottomissione è sottomissione e non ci interessa chi sia il responsabile va punito si può parlare di questi temi perché tutte le volte che io ho provato a porre questi temi che non sono isolati Paolo perché prima della vicenda di Samana ne abbiamo conosciute altre perché andatevi a guardare i dati per esempio sull'abbandono scolastico delle ragazze musulmane che vivono in Italia che sono agghiaccianti cioè questo è un problema diffuso lo vogliamo affrontare o non lo vogliamo affrontare dopodiché aggiungo leggevo questa mattina una interessantissima intervista mi pare sul Libero di un attivista pakistano dei diritti degli omosessuali che poi è stato naturalizzato in Italia che spiegava il punto di vista di chi normalmente viene in Italia dal Pakistan cioè quelle non sono persone che ambiscono a integrarsi a casa nostra sono persone che vengono spesso qui soprattutto diciamo da comunità rurali ok per cercare di raggranellare cioè di mettere da parte un gruzzolo e tornare in Pakistan quindi chiaramente il loro obiettivo non è integrarsi con la nostra cultura il loro obiettivo è venire qui fare del loro meglio per qualche anno e poi tornare nella loro cultura allora anche qui quando si parla di integrazione bisogna capire che tu puoi integrare qualcuno che vuole essere integrato perché qualcuno che non è interessato a essere integrato non lo può integrare mai ma ciò non toglie che devi spiegare a queste persone che se scelgono di stare un mese un anno dieci anni o vent'anni in Italia le regole che valgono sono le nostre non sono quelle di provenienza altrimenti qui non ci puoi stare questo è semplice e banale perché noi abbiamo combattuto per costruire la civiltà nella quale viviamo e non intendiamo tornare indietro per questo finto buonismo che la sinistra si è messa in testa regole chiare per tutti e tutti le rispettano voglio parlare un attimo ai miei telespettatori e telespettatrici e dire questo ha sconvolto tutti il video delle camere di sorveglianza che si vede video di sorveglianza nel quale si vede la scena del Mottarone i momenti più drammatici di quel evento in queste prime fasi diciamo le istituzioni preposte hanno fatto un po' di caos e ci avevano anche suggerito di non farlo vedere questo video noi lo facciamo vedere naturalmente se qualcuno è facilmente impressionabile se coloro che non sentono la forza di vederlo non lo vedano ma io penso che la realtà vada sempre prima di qualsiasi discorso e siccome questa è la realtà io comunque e noi abbiamo deciso di farlo vedere lo stesso lo vediamo insieme all'onorevole Meloni e poi ne parliamo prego grazie qui occorre fare in fretta Meloni con la giustizia ogni minuto in più qui occorre fare in fretta bisogna essere chiari bisogna essere implacabili e non bisogna consentire il rimpallo di responsabilità che stiamo vedendo in questi giorni perché le indiscrezioni che sono uscite anche qui insomma dobbiamo aspettare che la giustizia faccia il suo corso ma insomma immaginare che qualcuno sapesse che quelle che quelle cabine che quella cabina viaggiava senza freni e lo faceva da anni secondo me è una cosa inconcepibile insomma e io penso che insomma per intere famiglie distrutte penso sempre a Eitan che almeno è tornato a casa ma senza più una famiglia senza una mamma senza un papà senza un fratello senza i nonni cioè insomma noi non la possiamo consentire questa roba qui per un fatto di giustizia per un fatto di credibilità della nostra nazione speriamo che non succeda come col Ponte Morandi eh Meloni eh guardi col Ponte Morandi devo dire che insomma le cose non sono andate bene anche perché vedo alle vedo alla trattativa che il governo italiano ha fatto con i Benetton sulla vicenda di autostrade adesso rimango francamente basita guardi la ringrazio per questa domanda perché sono temi un po' ostici però le voglio dire è una cosa ok no no ma Vagli scusi Meloni sono temi che capisce chiunque ecco no ma io gliele spiego facili guardi noi abbiamo ripreso di fatto la gestione delle autostrade attraverso cassa depositi e prestiti ok dopo che avevamo di fatto consegnato un monopolio qualcuno aveva consegnato un monopolio ai Benetton sulla gestione di autostrade le quali autostrade erano state costruite con i soldi e i sacrifici degli italiani questi signori sono stati per qualche decennio seduti su un pozzo di petrolio a distribuire dividendi e chiaramente come tutti i monopolisti perché noi abbiamo semplicemente trasferito il monopolio pubblico a un privato non avevano interesse a investire ok adesso decidiamo che bisogna revocare la concessione ai Benetton e cassa depositi e prestiti insieme a degli investitori diciamo privati stranieri paga Benetton per riavere indietro la diciamo la gestione di una cosa che a partire allo Stato italiano in tutto questo però non si dice una cosa semplice e cioè che in questi giorni il funzionario del ministero dei trasporti è venuto in commissione alla camera dei deputati e ci ha spiegato candidamente che loro hanno fatto una verifica su 200 viadotti gestiti da Atlantia e sa quanti di questi viadotti erano diciamo in buone condizioni diciamo potevano andare avanti normalmente il 5% il 6% sono stati chiusi l'89% hanno dovuto rivedere le regole della viabilità in particolare per quello che riguarda i mezzi pesanti sa questo che cosa significa? Sì siamo a zero che noi adesso stiamo trasferendo su cassa depositi e prestiti cioè sui soldi dei risparmiatori delle poste italiane cioè sugli italiani attività di messa in sicurezza di un sistema che non è stato messo in sicurezza per decenni mentre ai Benetton gli diamo 600 milioni a cranio a me non sembra una cosa normale a me sembra normale io l'ho detto anche a Mario Draghi che noi prima chiediamo ad Atlantia di mettere in sicurezza la rete che ha gestito in questi anni e poi casomai la riprendiamo in gestione con cassa depositi e prestiti perché veramente oltre il danno la beffa mi pare troppo e questo perché i 5 Stelle ci dovevano liberare e dovevano così insomma far vedere quanto erano bravi loro contro i grandi potentati economici ha visto che è tornata l'idea del redditometro è come il redditometro è come la pioggia ogni tanto ritorna no? come i temporali e guardi il redditometro è come il grande noi siamo andati il redditometro è come il grande fratello sì siamo andati a Casiratta è solo un modo per controllare la gente esatto prego c'è la nostra Francesca Carollo vediamo se la vedo eccola lì con imprenditori che insomma non è che sia molto favorevoli Francesca al redditometro vero? esatto Paolo siamo proprio qui in un'azienda di catering lo vedo i tavoli degli eventi che ricominceranno però Fabrizio è veramente pietrificato l'idea del redditometro Fabrizio che cosa vorrebbe dire per voi beh guardate il redditometro è una follia stanno chiedendo e stanno già andando a cercare soldi che non ci hanno mai dato noi a riguardo chiediamo alla signora Meloni se si può far portavoce del settore eventi dove siamo sempre stati penalizzati parlo della mia azienda dove sono passato da 600 mila euro di fatturato solo nel settore catering sono passato da 600 mila del 2019 a circa 150 mila euro del 2020 con 50 mila euro di tassazione dirette però spiega in che cosa sarebbe un problema il redditometro il redditometro è un problema perché noi abbiamo fatto degli acquisti nel mese di novembre il professor Conte ci disse ragazzi state sereni facciamo un novembre tranquillo per poter fare un grande dicembre bene noi ci abbiamo creduto come dei somari ci siamo fatti gli acquisti abbiamo programmato quello che era il Natale quello che era il Capodanno chiaro ci siamo portati in casa dei prodotti cosa abbiamo fatto con questi prodotti abbiamo dovuto regalarli perché erano prodotti che erano freschi quintali di pesce quintali di pesce quintali di carne ma tutto quello che abbiamo fatto di pre lavorazione perché siccome nessuno ha idea di cosa succede nel mondo della banchettistica e nel mondo dei grandi eventi noi dobbiamo lavorare in anticipo però tecnicamente siete ricchi ma noi siamo ricchi se guardiamo il redditometro perché se guardiamo questi parametri quando noi abbiamo comprato dei prodotti li abbiamo regalati soprattutto regalando del prodotto mangiandolo noi dandole ai dipendenti è un prodotto che non è tracciato perché la distruzione non esiste e quindi chiediamo di farsi portavoce ma perché abbiamo anche delle tasse occulte chiarissimo che nessuno ha idea e non solo grazie aspetta facciamo rispondere aspetta Francesca facciamo rispondere l'onorevole Meloni un attimo prego ah guardi intanto Fabrizio mi pare intanto Fabrizio può contare sul fatto che Fratelli d'Italia è assolutamente sensibile alla vicenda del settore eventi e probabilmente se loro seguono la loro attività la nostra attività lo sanno anche siamo stati tra i primi a porre il problema degli eventi a porre il problema del fondo che era stato dedicato assolutamente insufficiente a porre il problema della riapertura degli eventi di un settore completamente abbandonato addirittura insomma segnalammo che che alcune scelte che venivano fatte sembrano fatte apposta per colpire questo settore dopodiché anche sulla vicenda del redditometro e Fratelli d'Italia ha già dichiarato la sua opposizione senza quartiere a un provvedimento che serve semplicemente intanto a fare dello Stato un guardone un guardone degli italiani e di fatto a controllare chi fa cosa chi consuma cosa chi sarebbe buono e chi no in un momento nel quale agli imprenditori diciamoci la verità Paolo conviene chiudere cioè noi l'abbiamo capito che in questo momento a molti imprenditori conviene chiudere noi continuiamo a parlare del blocco dei licenziamenti che non ci fai niente se le imprese chiudono perché se le imprese chiudono la gente rimane in mezzo alla strada allo stesso quindi il tema qui non è il blocco dei licenziamenti il tema è come fai a garantire la continuità di impresa noi abbiamo avuto imprenditori che nella fase del covid abbandonati dallo Stato italiano sono stati degli eroi a tenere aperto e secondo me uno Stato giusto oggi direbbe a quegli imprenditori ti ripago del sacrificio che hai fatto chi mantiene i livelli occupazionali chi nonostante la difficoltà non ha chiuso sappia che per un anno due anni tre anni avrà una serie di sgrevi fiscali e una serie di agevolazioni burocratiche e invece questi ti fanno il grande fratello c'hai l'inversione dell'onera alla prova in campo tributario hai il tetto al contante che è un'altra cosa folle che non serve a combattere l'evasione che serve solamente a farci fare la concorrenza sleale perché in Austria il tetto al contante non ce l'hanno quindi semplicemente sono risorse che si sposano in Germania che noi prendiamo sempre ad esempio la grande Germania quanto sono bravi i tedeschi il tetto al contante non c'è quindi sono misure che vanno anche valutate sulla base di quelli che sono i nostri competitor i nostri partner quindi una serie di misure assolutamente folli che alla fine favoriscono sempre le banche la moneta elettronica le grandi concentrazioni economiche che stanno mettendo in cinocchio letteralmente in cinocchio centinaia di migliaia di inglese che quando chiuderanno faranno purtroppo ci faranno trovare non per colpa loro milioni di persone in mezzo alla strada perché la politica è in altre faccende affaccendata il retitrometro in questa fase è una follia e noi annunciamo un'opposizione totale bene chiarissimo noi di Dritto Rovescio abbiamo commissionato a Tecné un sondaggio sulle intenzioni di voto questo è il risultato eccolo qua Lega Fratelli Italia Partito Democratico Movimento 5 Stelle Forza Italia Meloni dove vuole arrivare? dove mi portano gli italiani ne più ne meno non ho degli obiettivi personali io punto a fare bene il mio lavoro vabbè contenta però credono in noi sarà ben contenta certo sono molto contenta sono anche una persona molto responsabile quindi so bene lei mi conosce e lo sa so bene che insomma io vedo sempre soprattutto la responsabilità nel consenso cioè più persone credono in te più persone puoi deludere per cui ci chiama una ulteriore responsabilità senta Meloni sono sicuramente contenta che oggi i nostri sacrifici vengano riconosciuti sono stato a visitare uno zon non so se l'hai mai visto dove cinghiali gabbiani capre eccetera ero a Roma le faccio vedere aspetti certo io ci vivo Paolo ci vivo la macchia ecco ecco qua qui abbiamo le capre cinghiali cose eccetera beh insomma è un modo di educazione dei bambini al contatto con gli animali esatto è come andare in una diciamo una fattoria all'aperto il problema è che i cinghiali sono anche pericolosi come si sa insomma non è che siano esattamente peccato che però siano vicini alla discarica ma guardi la situazione di Roma è una situazione fuori controllo lo abbiamo visto in questi anni con insomma l'inutile attuale sindaco della capitale si vota si presume in ottobre e spero che le cose possano cambiare vedremo quello che posso dire io è che noi abbiamo come centrodestra messo in campo una proposta che io considero estremamente seria di due straordinari professionisti Enrico Michetti il candidato sindaco che è uno dei più grandi avvocati amministrativisti d'Italia quindi è una persona che sa esattamente dove mettere le mani in una in un'amministrazione estremamente complessa come quella della capitale affiancato da Simonetta Matone che è magistrato quindi insomma anche sui temi della legalità del rispetto delle regole che a Roma è un problema intendiamo dire la nostra dall'altra parte c'è la sinistra che fa i dibattiti negli stabili occupati tanto per farci capire che loro stanno sempre dalla parte dell'illegalità e il sindaco di Roma Virginia Raggi che invece di sgomberare i palazzi occupati in questi anni prende e sgombera una vecchietta di 95 anni che oltretutto paga pure il canone d'affitto della casa popolare non si sa con quale scusa a me pare una situazione fuori controllo chiaramente bisogna capire una cosa io sono romana e si sa che questa città la amo particolarmente ma il problema di una Roma che viene derisa a livello mondiale non è un problema dei romani è un problema degli italiani è la capitale perché la capitale di una grande nazione è l'immagine sulla sua carta d'identità deridono Roma per deridere l'Italia quindi noi abbiamo un disperato bisogno per questa città di raccontare una storia diversa e sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto con centrodestra a questo punto di vista penso che la sinistra si renda perfettamente conto di quanto siano competitivi i candidati che abbiamo messo in campo senta Meloni buona serata se mi prepara una griscia poi dopo la trasmissione me la venga a mangiare non si preoccupi io sono cintura nera di griscia Paolo ecco va bene allora finita la trasmissione la venga a mangiare arrivederci stia bene aspetto pubblicità buona serata a tutti pubblicità